Oggi al Pinobar di Fano si è tenuta la conferenza stampa dei rappresentanti della coalizione progressisti 2050 sulle riflessioni relative ai risultati elettorali. Ha aperto i lavori marchegiani e a seguire sono intervenuti Panaroni, Busca, Auspici e Benini. Hanno tutti espresso la convinzione, nonostante il risultato non positivo delle urne, di aver presentato una proposta politica di qualità. Hanno dichiarato che, per quanto ipotizzabile, non si aspettavano da parte della coalizione a sostegno di Fanesi un rimpallo di responsabilità nei termini espressi dopo i risultati acquisiti. Per quanto riguarda il futuro, hanno manifestato la disponibilità di un'interlocuzione che delinei la possibilità di un'opposizione qualificata, efficace e importante per tutta la città. Abbiamo voluto rispondere un po' ai commenti nervosi della primora di Cristian Fanesi, che io conosco come persona in genere più posata, perché non vale la pena in una campagna elettorale che io giudico molto corretta e di questo ringrazio anche sia Sir Filippi che Fanesi stesso. Qualche tono di asprezza agli ultimi giorni non si può stigmatizzare come comportamento idiota, come è stato detto, del fronte progressista che credo abbia dimostrato sempre un atteggiamento costruttivo e propositivo nei discorsi che abbiamo fatto, anche per servizio ai cittadini. Detto questo, la conferenza di oggi ci ha impegnati a fare un lavoro in consiglio comunale costruttivo. Non diremo no per il no, ma diremo sempre eventualmente le cose che non ci convincono, come pensiamo di risolvere. Voteremo a favore di cose positive, evidentemente. Ci attendiamo ovviamente che le cose promesse vengano realizzate, ma spingeremo anche delle battaglie che ci hanno caratterizzate con il nostro programma, evidentemente come deve fare una forza di opposizione con mozioni e proposte e cercheremo di creare un ponte fattivo anche con le altre forze di opposizione, in particolare il Partito Democratico, con cui auspico che si apra un dialogo su basi nuove, nell'interesse della città e nell'interesse di quel 50% di cittadini che comunque ci ha votati, perché il delta è 174 voti, quindi noi abbiamo, noi quasi i 20 e il Partito Democratico il 30, insomma con la coalizione sua, una forte responsabilità, quindi anche dall'opposizione si governa la città. L'opposizione, parlo per il Movimento 5 Stelle, sarà sempre un'opposizione concentrata sui temi, sulla sostanza delle questioni. Io sono la faccia del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, però alle mie spalle c'è, oltre alle persone che ci hanno votato, anche un gruppo di attivisti che entrano nel merito dei vari argomenti, perché ovviamente io non posso essere un tuttologo. Abbiamo persone che si occuperanno di economia, di finanza, di scuole, eccetera, per cui quando ci saranno determinati argomenti, determinate scelte, determinate votazioni da fare in Consiglio Comunale, lo faremo in maniera collegiale con il mio gruppo. Poi con gli altri dell'opposizione noi siamo aperti a tutti, apriamo il dialogo con tutti, ricordiamo sempre che in passato abbiamo anche votato delle proposte sia della maggioranza sia della destra, perché se nel merito ci sembrano degli argomenti votabili e giusti, noi li votiamo, perché cerchiamo sempre di fare un'opposizione decisa, ma costruttiva, pensando sempre al bene per la città di Fano. Tiziano, secondo lei quali sono le responsabilità della sconfitta del centro-sinistra? Le responsabilità hanno un nome preciso, si chiama Massimo Seri, che ha regalato questa città al centro-destra, chiede ancora agibilità politica perché ritiene di essere un valore aggiunto, il suo valore aggiunto è per il centro-destra, lo ha dimostrato, non c'è più nessun assessore ed erano tre che partecipavano al suo progetto politico che non sono nemmeno diventati consiglieri comunali, così come tutto il gruppo delle liste civiche che anziché sostenere la candidatura di Marchegiani, di cui lui fa parte come partito di azione, ha fatto sì che sostenessero la lista di Fanesi, che era il competitor di Marchegiani. Quindi ha giocato su tre tavoli e non ha portato a casa nemmeno una gamba. Mi dispiace ma questo è il risultato della politica e quando uno dice che è un valore aggiunto si coglie il significato per il centro-destra, perché il centro-destra governerà Fano.